Quali sono gli effetti che questa pandemia sta avendo sulle persone fragili psicologicamente? Questa pandemia sta mettendo ad una prova la tenuta psicologica di molte persone, a iniziare soprattutto per quello che è più fragile psicologicamente, per finire a tutti gli altri, cioè a quelle persone che si considerano più forti psicologicamente. L'ansia e gli attacchi di panico sono due sintomi molto comuni tra le persone che pensano di essere a forte rischio di ammalarsi di Covid-19, quelle fragili, o che si sono effettivamente ammalate. Inoltre l'ansia e gli attacchi di panico si esprimono comunemente, proprio con sintomi respiratori come la dispendia, tachicardia, tosse, disturbi a carico della parete toragica, e questa sintomatologia può facilmente essere attribuita dalla persona stessa ai sintomi respiratori del Covid-19, e già di per sé questo pensiero può scatenare una condizione di panico. Queste persone infatti hanno di solito un'ipervigilanza verso le alterazioni respiratorie, contribuendo in questo modo ad attivare un circolo vizioso. Alla fine questa condizione si dimostra un terreno fertile anche per lo sviluppo dell'infezione virale da Covid-19. Dato che le ricerche hanno dimostrato da molto tempo che lo stato d'ansia prolungato, specie se accentuato da frequenti attacchi di panico, indebolisce e squilibra il sistema immunitario rendendo l'organismo più aggredibile dal virus. Perciò queste persone hanno bisogno, oltre ad un rinforzo psicologico fornito loro da un professionista, anche di un trattamento preventivo di rinforzo del loro sistema immunitario, quando è possibile. A questo proposito l'American Psychiatric Association ha pubblicato alcune raccomandazioni, che riassumo così, raccomandazioni per le persone più fragili. Primo tieniti informato, ma con distacco. Cerchi di ottenere informazioni aggiornate sull'epidemia da fonti attendibili, con molta moderazione e con un certo distacco, perché guardare e ascoltare costantemente le notizie della pandemia aumenta lo stress e ti condiziona negativamente. Se si usano i social, bisogna seguire uno, due persone al massimo, serie, equilibrate, che godono della vostra fiducia. Se invece vi servite nella televisione, imponetevi un limite di orario, non più di 15 minuti al giorno, raccomandano. Evitare, prevenire e imparare a gestire le condizioni di stress elevato, un'altra raccomandazione, è normale vivere con un po' di allarmi durante una pandemia, però devi imparare a riconoscere i segni dello stress normale da quello eccessivo, sia in te stesso che nei tuoi familiari. Per ridurre al minimo lo stress e imparare a gestirlo, puoi per esempio pensare razionalmente a cosa si può fare per proteggersi a livello personale e familiare. C'è sempre qualcosa che si può fare in ogni situazione. Poi è importante non ingigantire il pericolo e vivere le difficoltà della vita come una sfida, che si può sempre superare se si accetta e se lei si combatte adeguatamente. Coltiva le relazioni familiari, è l'altra raccomandazione. Relazioni familiari e le amicizie, cercando per quando è possibile di avere buoni rapporti con tutti e di evitare in questo modo occasioni di tensioni, di conflitti interpersonali, col partner in casa, al lavoro, tra amici, in caso di lockdown, e di impossibilità di avere relazioni dirette in presenza, o che deve cercare di mantenere i contatti per telefono o servendosi meglio dei social, in particolare delle videochiamate o di gruppi, come stiamo facendo in questo corso su Zoom per esempio. Ripristina un corretto stile di vita, un'altra raccomandazione importante, correggendo in particolare eventuali due abitudini errate per quanto riguarda l'alimentazione, le ore di sonno, un tempo dedicato all'attività fisica, momenti di rilassamento, è il momento giusto per cambiare un po' stile di vita. Se non lavori poi combatti l'ozio, perché è molto negativo, è il padre di tutti i vizi, come si dice, e ti porta ad aumentare e a ingigantire pensieri, impigrandoti, mentre l'attività fisica è un ottimo modo per prendersi cura di se stessi, aumentare l'autostima, migliorare la salute fisica e anche quella mentale. La ricerca scientifica poi suggerisce che quando facciamo un'attività fisica moderata e intensa il nostro cervello rilascia sostanze chimiche che ci aiutano a gestire meglio lo stress e l'ansia in questo periodo per esempio. Inoltre l'attività fisica scarica la tensione mentale e accumulata. Prenditi dei momenti di pausa poi, di rilassamento, oppure concentrati su qualche distrazione positiva, utile o semplicemente piacevole. Impegnati poi a limitare qualche vizio come il fumo, un uso eccessivo di alcolici, di dolci o di caffè. Ripeto, come ho detto prima, può essere l'occasione per cambiare stile di vita, migliorare il proprio stile di vita. Impara a guardare alla vita e a tutte le sue esperienze con ottimismo, perché il bicchiere mezzo pieno, pur essendo una condizione esattamente uguale al bicchiere mezzo vuoto nella vita, un bicchiere mezzo pieno, guardarlo, focalizzarsi su quello, dona un'energia psicofisica completamente diversa e benefica e cambia la vita. Non abbatterti mai, perché c'è sempre una soluzione a qualsiasi problema. E se momentaneamente non vedi alcuna soluzione concreta, cercala e chiedi aiuto agli altri. Perché la soluzione in questo modo prima o poi ti verrà in conto. E poi l'attesa, aspettare, pazientare, è occasione di crescita, perché insegna a pazientare, a perseverare. Tutto questo è occasione di crescita, questo periodo può essere un'occasione di crescita. Attribuisci poi grande importanza al sonno, come è in effetti. Ricordati che è fondamentale anche per il sistema immunitario. Dedica un po' di tempo alla lettura, alla meditazione, tenendo presente che l'uomo non è solo corpo, e la psiche è rinforzata anche dallo spirito, dalla presa di coscienza e dalla propria componente spirituale. Dobbiamo fare tesoro di ciò che la pandemia ci ha insegnato, insomma, ci sta insegnando. Abbiamo potuto sperimentare la grande capacità di adattamento della mente umana. Abbiamo capito di poter superare anche periodi molto difficili. Ci stiamo rinforzando in questo modo. Dopo la fase dello shock iniziale, ora dobbiamo passare attraverso quelle di adattamento e di elaborazione, prima di poter dire che ne siamo usciti. Ma non possiamo farcela da soli. È fondamentale riscoprire i valori dell'azione collettiva, della reciprocità, della solidarietà. Quante volte in passato ne abbiamo sentito parlare, ne abbiamo parlato, ma senza comprenderne a pieno il significato. Ora possiamo farlo, metterlo in pratica, come stiamo cercando di fare in questo corso, nei gruppi soprattutto. Per questo è importante mantenere vive le relazioni, il dialogo con le altre persone. Tutti gli studi dimostrano che dove c'è solo lamento, c'è maggiori sofferenze dal punto di vista mentale, oltre alla famiglia anche comunità, gruppi sportivi, parrocchie, gruppi su online, parrocchie, come detto prima, e altri gruppi del genere aiutano ad affrontare con maggiore equilibrio e serenità le situazioni stressanti difficili, specialmente per quelle persone che non hanno una base familiare sicura e continua, continuativa e presente. Un altro aspetto importante è quello del racconto del proprio disagio. È difficile riconoscere e chiedere aiuto molto spesso, esprimere il proprio disagio, riconosce, accettarlo. Ma dall'inizio della pandemia si è parlato molto della sofferenza mentale, del disagio psicologico, facendo uscire il disagio psicologico dalle categorie stereotipate in cui in genere ne si tiene. Oggi quindi si ha meno timore di chiedere aiuto, di dire che sono un disagio, esprima il disagio. Le rilevazioni nazionali sulla richiesta di aiuto psicologico indicano proprio l'importante crescita della domanda. Lo vediamo nei nostri studi. Sono tanti quelli che per varie ragioni in questo periodo hanno bisogno di supporto psicologico. Basta pensare a chi in questi due anni ha vissuto un lutto, per esempio, più o meno recente. In molti non sono stati, non sono riusciti a stare accanto ai propri cari come avrebbero voluto. Il Natale poi si associa a una serie di tradizioni e abitudini che dal punto di vista mentale sono molto importanti perché rinsaldano i legami familiari, costituiscono dei punti di riferimento, garantiscono una percezione continuativa della nostra identità familiare. Il fatto di vivere questo Natale senza una persona cara persa, costretto a confrontarsi con una nuova realtà in modo doloroso, un vuoto che diventa molto pesante anche perché ha combattuto insieme alla persona affetta da Covid, perché ha scandito le proprie giornate nella cura verso il familiare malato. Il peso dell'assistenza non è semplice. La persona che si prende cura dei propri cari generalmente è talmente coinvolta nel suo compito che difficilmente pensa a se stesso. È raro che chieda aiuto psicologico anche se ne avrebbe bisogno, e questo accade in generale al di là di questo periodo Covid. Queste persone dovrebbero a questo punto imparare a riconoscere il proprio disagio psicologico, ad accettarlo, prendersi cura di sé e esprimere il disagio psicologico, chiedendo aiuto ai professionisti ma anche in altri ambiti, come ho detto prima, gruppi più o meno diciamo in presenza o anche online, come in questo corso stiamo cercando di fare.